Noi cristiani viviamo nel mondo pienamente inseriti nella realtà sociale e culturale del nostro tempo ed è giusto così, ma questo comporta il rischio che diventiamo mondani, il rischio cioè che il cristiano si annacqui, perda la carica di novità che gli viene dal Signore e dallo Spirito Santo. Anna Quare utilizza proprio questo termine il Papa in occasione della recita dell'Angelus in piazza San Pietro parlando del ruolo e del compito dei cristiani nel mondo di oggi, prendendo spunto dal passo del Vangelo di Matteo nel quale Gesù rimprovera Pietro perché non pensa secondo Dio ma secondo gli uomini e senza accorgersene fa la parte di Satana il tentatore. Invece quando nei cristiani rimane viva la forza del Vangelo, dice il Papa, essa può trasformare i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di interesse, le linee di pensiero, le fonti ispiratrici e i modelli di vita. Perciò, ha spiegato Papa Francesco, è necessario rinnovarsi continuamente attingendo la linfa dal Vangelo. E come si può fare questo in pratica? Anzitutto ha evidenziato il Papa proprio leggendo e meditando il Vangelo ogni giorno così che la parola di Gesù sia sempre presente nella nostra vita. Da qui il consiglio più volte dato dal Papa di portare sempre con sé un piccolo Vangelo. E poi partecipando alla Messa Domenicale dove incontriamo il Signore nella comunità, ascoltiamo la sua parola e riceviamo l'Eucaristia che ci unisce a lui e tra noi. E poi sono molto importanti per il rinnovamento spirituale anche le giornate di ritiro e gli esercizi spirituali. Vangelo, Eucaristia e preghiera dunque. Di cui l'invito a non dimenticare questi doni del Signore, grazie ai quali possiamo conformarci non al mondo ma a Cristo e seguirlo sulla sua via, la via del perdere la propria vita per ritrovarla. Perderla, ha chiarito il Papa, naturalmente nel senso di donarla e questo comporta il sacrificio e anche la croce. Dopo la recita dell'Angelus, il Papa poi ha auspicato che si rafforzi l'impegno di tutti, istituzioni, associazioni e cittadini, affinché sia salvaguardata la vita e la salute delle persone, anche rispettando l'ambiente e la natura, ricordando la celebrazione della giornata per la custodia del creato promossa quest'oggi dalla CEI. Il tema di quest'anno, ha sottolineato il Pontefice, è molto importante, educare alla custodia del creato per la salute dei nostri paesi e delle nostre città. Poi il Papa ha inviato un saluto speciale ai parlamentari cattolici, riuniti per il loro quinto incontro internazionale, con l'incoraggiamento a vivere il delicato ruolo di rappresentanti del popolo in conformità ai valori evangelici.